La lezione di San Benedetto come base della civiltà cristiana è fondamento dell'unione dei popoli di tutta l'Europa. La nascita del monachesimo in occidente e la diffusione della sua regola in tutto il continente, realizzata grazie all'azione del Santo di Norcia, è stata al centro di un Alexio Magistralis della professoressa Immacolata Aulisa. L'Aulisa, docente di storia del cristianesimo antico presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Bari, è stata ospite a Barletta nell'ambito di un evento organizzato dal centro-sud di Barletta in Rosa, proprio nella chiesa dedicata al Santo Umbro, inventore dell'ora et labora. La diffusione del cristianesimo è stata così complessa che sicuramente deve essere contestualizzata a seconda delle epoche storiche, dei secoli e delle aree geografiche, ma la regola di San Benedetto, l'ideale lasciato in eredità da questo santo, ha permesso di lasciare in eredità un messaggio che fondamentalmente è un messaggio di pace, un messaggio di umiltà, un messaggio di obbedienza, ma anche di preghiera e di lavoro, una spiritualità che sicuramente trova ancora oggi molto da dare, tanto è vero che San Benedetto nel 1964 è stato dichiarato da Paolo VI uno dei principali protettori dell'Europa. Il suo messaggio è fondamentalmente un messaggio di preghiera e di pace, di cui oggi si avverte tanto l'esigenza e la necessità. L'attualità della lezione Benedettina è stata sottolineata anche dalla Presidente del Centro Sud di Barletta in Rosa, Maria Grazia Vitobello. Oggi affrontare le tematiche della vita di San Benedetto, la sua esperienza e il modello ispiratore e soprattutto pensare ad una società come quella monastica, piccolo esempio di una città in grande stile, ha significato tanto e oggi deve lasciare il segno. Una società che risponde molto poco ai canoni del rispetto dei valori, del rispetto del passato. Oggi, ecco, l'esempio di San Benedetto e la vita dei monasteri, ascoltato stasera in maniera magistrale della professoressa Ulisa, lascerà sicuramente il segno.